Teme il calo di consensi? Mi dicono che non c'è molto calo di consensi, ma devo dire non sono molto abituato a guardare o a interpretare questi dati. Preferisco, parlo per me, i miei colleghi credo che abbiano una sensibilità molto simile alla mia, ma non posso parlare per loro. Io preferisco che abbiamo un calo di consensi facendo cose qualche volta un po' difficili da assorbire, ma utili nell'oggi e soprattutto nel domani, piuttosto che lavorare per tenere alti consensi che non ci servono perché non ci presenteremo a elezioni e che se costituissero il nostro obiettivo principale ci farebbero mancare al nostro compito principale. Grazie per l'attenzione, grazie a tutti. Io non ho nessuna obiezione se i miei colleghi hanno ancora disponibile un po' di tempo. C'è l'intero gruppo, le modalità, abbiamo anche l'azionista qui, dovranno essere studiate nel modo migliore, ovviamente. Buonasera, grazie. Grazie.